Io vincere la cittadina! Io vincere la cittadina! Le voci che si uniscono per celebrare San Michele Arcangelo, i canti, le preghiere, le note suonate dalla banda musicale. Domenica 22 maggio il santo patrono della città di Caltanissetta torna in cattedrale dopo due settimane di permanenza nella chiesa di San Michele. L'8 maggio infatti è arrivato nell'originale chiesetta di Via Salemi. Un ritorno al passato, dato che negli ultimi anni il simulacro veniva ospitato nella più ampia e moderna chiesa nuova. 15 giorni di festa per la parrocchia, che ha potuto rivivere momenti di gioia e mirare San Michele nel luogo dell'apparizione al frate Cappuccino Francesco Giarratana nel 1625. La tradizione infatti racconta che lo stesso vide l'arcangelo bloccare l'ingresso in città di un uomo colpito dalla peste e così Caltanissetta fu liberata dalla malattia. La parrocchia dunque ha celebrato il santo patrono dopo la pausa a causa dei due anni di pandemia con un fitto programma tra veglia di preghiera, missioni nelle piazze, musica e proprio nella serata della festa patronale il 20 maggio spettacoli e degustazioni. E così si arriva al termine della permanenza in via Salemi. Una processione molto partecipata dai cittadini nisseni, quella del 22 maggio. Un tappeto di fedeli infatti ha seguito lungo tutto il percorso e il corteo a cui hanno preso parte le associazioni legate al culto di San Michele, il clero, la banda musicale, le autorità. Molti fedeli in segno di ringraziamento per una grazia ricevuta, altri nella speranza di ottenerla, tanti i devoti con le candele o ceri tra le mani e a piedi scalzi in segno di penitenza. Così come erano scalzi anche i portatori che sulle loro spalle hanno trasportato e accompagnato San Michele Arcangelo per le vie del centro sino in cattedrale.